Benvenuti alla Mimosa Benvenuti alla Mimosa Fortunato tu questa sera hai ricevuto un premio per l'alta qualità del tuo locale Tra l'altro è un bellissimo nome però i fortunati in realtà siamo noi perché abbiamo mangiato benissimo Tu fai dei grandi piatti di pesce, eccellenza della qualità Ci vuoi raccontare un pochettino della Mimosa? Certo, ma guarda io non è che mi voglio dilungare più di tanto della cosa Però devo ringraziare anche un po' tutti loro che ho uno staff veramente da anni qua Sono quasi otto anni che sono qua e devo dire che le soddisfazioni sono veramente tante Cosa dirvi? Ho poche parole veramente perché ho tanta sostanza Quindi ringrazio un po' tutti, ringrazio i miei collaboratori Io mi sento uno di loro, lavoro, cerco di dare il mio meglio ogni giorno Cerco comunque di calarmi nel ruolo soprattutto come grande lavoratore e poi come grande titolare Sono fiero di me, sono fiero dei ragazzi Senza di loro penso di non arrivare a ciò che sono Che dire, un grazie veramente a tutti Effettivamente l'applauso ci vuole Ci vuole questo applauso non tanto per i tuoi piatti che sono veramente ottimi Ma anche perché tu hai saputo crearti una squadra di collaboratori veramente molto molto validi Vogliamo ricordare anche i tuoi orari? I miei orari sono dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 01 all'una Quindi vi aspettiamo volentieri, siamo qui per accogliervi, per darvi comunque il nostro servizio Sabato e domenica siamo aperti solo la sera Tranne comunque qualche evento che siamo aperti anche la domenica a pranzo E niente, che dirvi? No, qui siamo, diciamo una cosa importante Qui siamo a Collegno, prima cintura di Torino Ridente, cittadina, tranquilla La gente di Collegno vi conosce Per quelli che vengono da Torino e che vengono da fuori Vogliamo dire qualcosa per loro che magari ancora non vi conoscono? Ma che dire, io penso che in questi otto anni abbiamo seminato bene Stiamo raccogliendo, veniteci a trovare, veniteci a scoprire e vi daremo il nostro meglio Grazie Fortunato Altro applauso meditatissimo La Mimosa, Collegno, Torino Le cose buone di un posto che bisogna venire a conoscere Grazie, grazie volentieri a tutti voi Grazie di questa magnifica serata Vi ringrazio a tutti, ringrazio a tutti voi A tutti Grazie di buono Applauso per loro soprattutto Applauso per loro volentieri Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ottima qualità e poi soprattutto il prodotto buono Qual è un piatto che le è piaciuto particolarmente? Mi è piaciuto da matti gli spaghetti all'astice Il tutto così innaffiato con un vino delicatissimo e fantastico Lo consiglierebbe? Sicuramente, guardi, mi creda Io sono venuta qua per caso questa sera Comunque è veramente una scoperta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti